Salve buongiorno a tutti, buon fine settimana e ben ritrovati al primo appuntamento settimanale del nuovo mese, del mese novembre, dove a mercati chiusi andremo un po' ad analizzare quello che è successo nel corso della settimana, a cavallo tra il mese di ottobre ed il mese di novembre e in più faremo analisi anche per quanto riguarda la prossima settimana, non solo dal punto di vista dei principali scenari, delle principali major, ma anche come da consuetudine andremo un po' a spulciare le news più importanti, gli appuntamenti più importanti che andranno a catalizzare l'attenzione quindi a caratterizzare un po' la settimana, la nuova settimana che poi tra l'altro è la prima settimana fondamentalmente piena del mese di novembre, penultimo mese 2018. Bene, iniziamo ad guardare con attenzione quello che è successo, come è chiuso la settimana per quanto riguarda i listini europei, chiudono l'ottava in rialzo, quindi inizia il nuovo mese in territorio positivo, lasciando ben sperare in un recupero dopo i forti scivoloni che sono stati registrati nell'ultima decada del mese di ottobre. Francoforte chiude a più 0,44%, poi abbiamo Madrid che la segue a più 0,43% e più distanziata Parigi a 0,32%, tutte galvanizzate dal tweet positivo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel quale ha dichiarato di essere vicino a un accordo commerciale con il presidente cinese Xi Jinping con l'avvicinarsi del summit del G20 dove i capi di Stato si incontreranno. Ovviamente l'unica piazza a chiudere negativa è Londra, vedete, meno 0,29%, ancora condizionata dal nulla di fatto dei progressi per l'addio del Regno Unito all'Unione Europea. Da Londra una fonte governativa ha smentito che si sia giunto in un accordo tra la Gran Bretagna e Bruxelles per garantire una forma di accesso ai mercati europei e alle aziende britanniche di servizi finanziari. In precedenza un altro fondo aveva detto, confermando le discrezioni del Times, che un'intesa in merito sarebbe stata a portata di mano. Mentre invece per quanto riguarda Piazza Affari, maglia rosa per il listino principale milanese che chiude appunto al di sopra il punto percentuale, precisamente al 1,07%, la giornata, l'ultima seduta della settimana si chiude appunto anche con i risultati degli stress test dell'EBA sulle banche europee e 4 italiane, ovvero l'intesa San Paolo, Unicredit, Ubi Banca e Banco BPM. Secondo l'ente certificatore, nel complesso le banche dell'Unione Europea hanno mostrato una buona capacità di tenuta a fronte delle condizioni di stress ipotizzate dallo scenario avverso. Lo riporta appunto un comunicato stampa della parte della Banca d'Italia a seguito appunto delle simulazioni condotte dall'European Banking Authority. Per le quattro banche italiane è inclusa la riduzione media ponderata del CET1 ratio nello scenario avverso è pari a 3,9% punti percentuali su base fully loan. Un risultato rileva le istituzioni in linea con quello medio del compresso delle banche concluse nel campione e con la media totale dell'EBA. Poi in definitiva il comparto bancario quindi è stato il protagonista assoluto della giornata soprattutto quindi sul listino milanese. La maggior parte delle banche quindi hanno chiuso oggetto di stress test hanno chiuso positivo. Intesa San Paolo all'1,04 di credit tra i 22, UB Banca 2,65 e Banco BPM a 3,64%. Chiudono anche in territorio positivo BIPER 4,06% Mediobanca 1,33% tra i sei istituti significativi su cui le autorità hanno condotto test parallelo. A Milano per quanto riguarda il comparto auto FCA ha chiuso a 4,10% dopo i buoni risultati sui dati delle immatricolazioni americane e poi l'allentamento delle tensioni commerciali tra l'America e la Cina ha prodotto effetti positivi anche su Monclero che chiude al 5,19% ma vanno bene anche altri titoli del settore del lusso tipo Salvatore Ferradamo 2,15% mentre invece Vila è negativo Pirelli 0,96% meno mentre Prisman segna un più 3,66%. Lo spread BTB Bund è sceso durante le prime ore della settimana fino a 286 punti per poi chiudere appunto la seduta a 290 punti base. Il rendimento del decennale italiano è arrivato a rendere il 3,297% i minimi dal 29 ottobre e ora scende al 3,33%. Bene, andiamo a vedere un po' le news dell'ultima giornata. Allora, l'ultima seduta appunto della settimana inizia con la pubblicazione di alcuni dati relativi al PMI manufatturiero. Il primo dato arriva dalla Germania, risultato di leggero calo a 52,2 rispetto ai 52,3 della lettura preliminare e delle attese del mercato. Poi è la volta dell'Eurozona dove secondo i dati diffusi da market, il PMI finale del settore manufatturiero è sceso a 52 punti ad ottobre, in calo rispetto alla stima flash pari a 52,1 punti e al dato finale di settembre del 53,2. L'indice PMI invece delle costruzioni inglese è migliorato nel mese di ottobre salendo a 53,2 contro il 52,1 di settembre. Il dato è migliore delle attese del mercato che pronosticava un ralentamento a quota 52 punti. Bene, ottimi dati macroeconomici americani. Ottobre le aziende statunitense hanno assunto più del previsto, ma il tasso di disoccupazione è rimasto a livelli record dal 1969 al 3,7%. Negli Stati Uniti, ieri ci sono stati non fan per all, sono stati creati circa 250.000 posti di lavoro, mentre gli economisti ne attendivano 188.000. Il rialzo di ottobre segna il 97esimo mese di fila in cui i lavoratori hanno dato, hanno reclutato i vari datori di lavoro, hanno reclutato personale con un nuovo record. Guardando appunto la situazione complessiva, la crescita dell'occupazione appare forte, in media nei primi dieci mesi del 2018 sono stati creati circa 213.000 posti di lavoro ogni mese, contro la media mensile di 182.000 nel 2017. I salari orari, attentamente monitorati perché indicano l'assenso o meno di pressioni inflative, hanno registrato il migliore aumento annuale. In quasi un decennio, addirittura grazie a 3,1% rispetto a un anno prima, un elemento che porta gli investitori a temere che la Fed prosegua o anzi accelere il suo percorso di rialzo dei tassi. Su base mensile, invece, i salari orari sono aumentati dello 0,18% a 27,30 dollari, inferiore alle previsioni degli economisti. La durata della settimana media di lavoro è aumentata di 0,1-34,5 ore. La partecipazione alla forza lavoro è salita al 62,9%. Quando invece, in ultimo alla bilancia commerciale, ha registrato a settembre un deficit di 54,2 miliardi di dollari in aumento rispetto al dato del mese precedente, a 53,31 miliardi. rivisto quindi leggermente al rialzo dai 53,24 miliardi. Il dato è superiore al disavanzo atteso dagli economisti pari a 52,4 miliardi. Quindi, alla fine vediamo che gli ultimi dati, quindi l'anno finisce per gli Stati Uniti. In questo momento, stiamo quindi alla fine del 2018, possiamo già trarre delle conclusioni molto importanti. Grazie alla politica messa in campo da Trump, politica più protezionista nei confronti degli americani, ha dato i suoi effetti positivi, non solo per quanto riguarda l'occupazione, il settore per quanto riguarda l'occupazione che è aumentata, abbiamo visto dai dati, mese per mese, ma anche per quanto riguarda la situazione legata all'industria, ai rapporti commerciali stranieri, sembra che appunto ci sia una mano tesa, anzi due mani tese da parte, abbiamo visto prima, della Cina e degli Stati Uniti, quindi è una situazione molto interessante da vedere entro fine anno. Ovviamente, questo mese sarà oggetto anche delle middle term, cioè ovvero delle elezioni di metà mandato, come di consedutine da parte del Presidente americano, quindi c'è quest'altra prova per il Presidente americano di metà mandato, e quindi se fino a un paio di mesi fa c'era una situazione in cui da parte dell'opinione pubblica si registrava un certo malcontento per i modi, diciamo, di comportamento di Trump, soprattutto per i vari licenziamenti, le persone che si sono andate nel proprio, diciamo, i suoi collaboratori stretti, molte interviste di molti di questi, praticamente loro davano, secondo alcuni era un po' difficile da poter lavorare a stretto contatto con Trump, perché è una persona molto volubile nel suo modo di fare, però alla fine dobbiamo dare atto che i numeri sono questi, i numeri danno ragione all'amministrazione Trump, quindi alla fine abbiamo una situazione che è positiva, un 2018 appunto che chiude positivo per gli Stati Uniti e quindi molto probabilmente Trump potrebbe passare l'esame a piedi vuoti anche per quanto riguarda le elezioni di metà mandato e quindi iniziare un po' un ulteriormente 2019 più forte rispetto, soprattutto rispetto anche al 2018, quindi con questi numeri, quindi abbiamo già, si apre una strada spianata per Trump, quindi con un tappeto rosso praticamente, perché poi ci aggiungiamo al Natale che per gli americani è una delle festività, diciamo, più sentite dell'anno ed molto probabilmente anche per quanto riguarda il Natale possiamo dire che con l'occupazione con dei numeri così alti e quindi ciò potrebbe rendere ancora più interessante guardare anche i consumi che si avranno al Natale, quindi a questo punto anche dal punto di vista per quanto riguarda appunto anche tutte le famiglie americane molto probabilmente si apre anche un futuro abbastanza rosio. Beh, questa è la situazione dal punto di vista macroeconomico, adesso andiamo a vedere invece come il calendario macroeconomico della prossima settimana, che ho già dato un impronto, ho pulciato, ho preso solo, le notizie più importanti. Bene, partiamo da lunedì 5 novembre, dove alle 10.30 abbiamo l'indice di elettorio di acquisto e settore dei servizi della Gran Bretagna relativo al mese di ottobre e poi alle 16 l'indice ISM non manufatturiero di ottobre. Martedì 6 novembre dalla Banca Centrale Australiana con la decisione sui tassi di interesse e poi i nuovi lavori di JOLTS di settembre alle ore 16 dagli Stati Uniti. La situazione diventa un po' più complessa già a partire da mercoledì, in quanto abbiamo diversi appuntamenti interessanti. Si parte già alle 11 dalla zona euro con le vendite al dettaglio di settembre, alle ore 16 l'indice dei vendi, direttore gli acquisti di ottobre, alle 16.30 le scorte di petrolio greggio, alle 21 invece sarà la volta della Banca Centrale della Nuova Zelanda con i tassi di interesse e poi un'ora dopo c'è la consueta conferenza stampa da parte del numero 1 della Banca Centrale della Nuova Zelanda. Passiamo a giovedì 8.00. 8.00 alle ore 10 abbiamo il rapporto mensile della BCE, alle ore 11.00, poi alle 14.00 le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione e alle 20.00 abbiamo la FED, quindi sui tassi di interesse. In ultimo venerdì 9 novembre, Gran Bretagna abbiamo la mattina alle 10.30 abbiamo una sfilza di notizie in arrivo dalla Gran Bretagna interessanti da seguire. Abbiamo il PIL mensile del terzo trimestre e annuale, poi alla produzione industriale e manufatturiera di settembre, poi il saldo della bilancia commerciale di settembre, mentre alle 14.30 l'indice dei principali prezzi alla produzione di ottobre. Unico dato della sessione americana è alle ore 16 con l'indice di fiducia dell'Università del Michigan. Bene, questo è il calendario macroeconomico appunto già filtrato con le inizie più importanti della prossima settimana. Ora passiamo alla seconda parte, ovvero all'analisi dei nostri tre pannelli di controllo presenti all'interno nella MQL Suite, di cui andiamo ad analizzare con attenzione durante i nostri appuntamenti, le dirette live giornaliere. Allora, per quanto riguarda, però ovviamente adesso guardiamo più nel settimanale, quindi nel lungo termine, per quanto riguarda la prima settimana, tra il mese di ottobre e il mese di novembre, abbiamo in questo contesto un dollaro della Nuova Zelanda che strappa un ottimo 12,55%, a seguire dall'altra valuta oceanica, dollaro australiano, quindi sono pagate, a 9,57%. Poi abbiamo una sterlina. La sterlina inglese a più 6,34% di cui abbiamo cavalcato buona parte, soprattutto nell'ultima parte della settimana, questa movimentazione realtista soprattutto nei confronti del dollaro americano, quindi abbiamo dato anche delle indicazioni per quanto riguarda e quindi abbiamo imboccato la strada giusta. Diciamo che è un rally all'interno di una movimentazione più importante di bassista, quindi una fase di recupero del respiro da parte della sterlina inglese. Poi invece abbiamo, nell'altra parte della barricata, abbiamo 1 yen, meno 11,98%, quindi New Zealand yen alla fine è stata, vedete, la coppia, il cross più forte, quello che ha avuto la migliore tendenza realzista della settimana. a seguire il penultimo posto abbiamo il franco, meno 7,68%, e poi abbiamo l'euro, meno 3,33%. Quindi, se New Zealand yen è stato il cross più che ha avuto la performance migliore, positiva, quindi una fase di apprezzamento, quella che invece si è deprezzata di più è stata l'euro dell'euro New Zealand, vedete, che praticamente è stato quello che ha spinto più in basso di tutti. Bene, per quanto riguarda, molto interessante guardare la parte dedicata al franco e il gruppo dello yen, vedete, il franco abbiamo tutte situazioni positive dovuto appunto alla debolezza del franco, e anche lo yen, dovuto appunto alla debolezza dello yen. Dall'altra parte invece abbiamo il dollaro della Nuova Zelanda che, con la sua forza, vedete, ha sbaragliato tutti, quindi tutte situazioni positive. ovviamente, le ultime tre, essendo alla destra, quindi praticamente ha avuto una situazione, diciamo, una fase bearish, perché appunto era la seconda valuta. Poi abbiamo anche il dollaro australiano, vedete come ha spinto forte, nei confronti sia di auto sd, che è salita dell'1.51, e anche degli altri gloss e via di segno. Beh, questa è appunto la situazione che si è, diciamo, per quanto riguarda appunto la lettura del nostro pannello di controllo Best & Worst. Ora passiamo all'analisi dell'altro pannello di controllo, un attimo solo, Net Change. Il Net Change, al momento che mi misura le percentuali, in diversi intervalli di tempo, ovvero dal giornaliero all'annuale, in questo momento, vedete, non abbiamo nessuna confluenza, né per quanto riguarda il comparto, la mia watching list che comprende la parte, le valute, il portafoglio delle valute, Poi abbiamo l'oro, poi da qua abbiamo l'U.S. crude, poi abbiamo il comparto degli indici, fino al Dow Jones US 30, e poi abbiamo il comparto azionario. Vedete, non abbiamo, togliendo General Electric, che è rosso, una confluenza dal giornaliero fino al mensile, vedete, abbiamo tutti i valori negativi, mentre di pari passo all'incontrare il Tesla, che ha una confluenza positiva, data appunto, da tutti i dati positivi. Gli altri, fondamentalmente, si trovano ancora in una fase di lettura, diciamo, che poi alla fine la vediamo meglio da punista grafico, oggi ci concentriamo solo sulle sette major, eccole qua. Per quanto riguarda, appunto, come vi dicevo prima, le sette major, fino al dollaro della Nuova Zelanda, abbiamo praticamente, vedete, delle situazioni che poi non andiamo un po' ad seguire graficamente. Passiamo al terzo pannello di controllo, anche questo molto interessante, l'Emma Dashboard, dove abbiamo come confluenze dollaro Yen positivo, vedete, tutto verde, qua ci indica che la media, in questo caso, il calcolo delle medie fatte su H1 settimanale, sono tutte di indicazioni positive. Anche USD Franco, anche Euro Sterlina, US Crude, di cui abbiamo diverse posizioni sell, continua ad essere negativo. Per quanto riguarda, invece, la situazione legata, gli indici, vedete qua, nessuna confluenza, mentre, per quanto riguarda, il comparto azionario, abbiamo, Adobe, Amazon, negativo, Facebook, negativo, General Electric, negativo, Netflix, negativo, le uniche due posizioni sono Tesla e Twitter. però, diciamo che stiamo stati un po' fermi in ultima settimana di novembre perché, con, a causa, la, ci sono state diverse trimestrali, quindi, dal mese novembre, quindi, alla prossima settimana, andremo a lavorare anche sul comparto azionario. Bene, questa è la situazione. Adesso, concentriamoci la terza parte su, sull'analisi tecnico-grafica. Però, prima di poter passare all'analisi tecnico-grafica, andiamo a vedere un po' cosa, come, cosa è andata a finire, come, praticamente, allora, il, il mese, allora, il, come, si è chiuso, dal punto di vista, eh, operativo, il mese di ottobre. Beh, il mese di ottobre, eh, iniziando, con, il portafoglio diviso in valutario e indice azionario, solo per quanto riguarda il valutario, abbiamo, raggiunto, un, su, 96 operazioni, quindi l'ultima è stata proprio questa di franco, su 96 operazioni, sono state chiuse, raggiunti, 2641, punti. 2641 sono le operazioni che sono state chiuse, quelle prese in negativo e quelle in positivo. Quindi, più, 2641, punti, solo per quanto riguarda il contesto valutario. Dal primo ottobre, ricordo che, ho, sto analizzando le modalità dei vari scenari, quindi, dei vari cross, delle varie valute, indici, e azionario, prendendo come riferimento, non è, non la chiamo una strategia, ma una lettura diversa, per quanto riguarda le candiere, per quanto riguarda le aree da interessare, ovvero le fibonacci, zone, pv, dove, praticamente, vado un po' ad individuare, sono delle zone particolari che ho dato spiegazioni anche all'interno del, nel meeting che abbiamo fatto, nel seminario full immersion, presso i nostri uffici a Roma. 2641 punti per il valutario, mentre invece, per quanto riguarda gli indici, abbiamo, chiuso a 51 operazioni, 851 punti, gli indici, vedete? Quindi, 851 punti, mentre, invece, per quanto riguarda l'azionario, 13 operazioni, 1611 punti, quindi, morale della favola, abbiamo, un 2641, più 850, quindi, praticamente, stiamo ad, 851 punti, quindi abbiamo, abbiamo detto, 1641, più 851, e più 1611 punti, 5103 punti, solo, per quanto riguarda, il mese di ottobre, ed, un mese dove, praticamente, abbiamo, aumentato il portafoglio, ho ridotto un po', la watching list, del valutario, per poter, fare spazio, al contesto, degli indici, ed, quello azionario. bene, mentre invece, novembre, abbiamo già, le prime operazioni, quelle che, a cavallo, tra il mese di ottobre, e il mese di novembre, che si sono chiuse, a novembre, quindi, fanno parte, novembre, ed, abbiamo già, in attivo, 819 punti, vedete, quindi, qua, sono tutte le operazioni, che ho chiuse, qualche stop loss, diciamo, di regola, meno 70, meno 5, meno 45, meno 25, però, diciamo, che, abbiamo, più 105, più 137, più 50, più 16, più 80, più 100, più 200, più 121, quindi, alla fine, abbiamo, un, già, stiamo parlando, poi, di due giorni, alla fine, lunedì, novembre, già abbiamo, 819 punti, solo, per quanto riguarda, il comparto valutario, per quanto riguarda, gli indici, 32 punti, al momento, quindi, 32 punti, mentre, invece, per il comparto azionario, abbiamo, un pending, su Facebook, che, se stop, che ancora, deve, entrare, al mercato, bene, bene, ricordo, che, ho avuto, diversi, contatti, in questa settimana, molti contatti, per, chi vuole entrare, a far parte, nel nostro, community, del nostro, della nostra, ehm, del contenitore, e più che altro, per quanto riguarda, soprattutto, le varie analisi, che, ehm, ci saranno, ci sono, io sono, analista finanziario, quindi, le varie analisi, che facciamo, la diretta live, mattutina, potete, iscrivervi, andate sul nostro portale, teletrade.eu, slash, t, teletrade.eu, la stessa cosa, in analisi, vedete, qua ci sono, tutti i nostri, le nostre offerte, ehm, insomma, tutto quello, che facciamo, però, in particolare, voglio presentare, oggi, la diretta live, diretta live, praticamente, eccola qua, ehm, dai mercati, che, ehm, insieme a me, c'è anche, Emanuela Negro, di Trading Room Roma, e, ehm, da lunedì al venerdì, tutti i giorni, dalle 8 e 30 alle 10, e poi pomeriggio, da lunedì al, al, al giovedì, dalle 15 alle 15 e 30, e potete, chiedere l'iscrizione, alla diretta live, nome, cognome, mail, telefono, quindi, compilate, il format, e dove, vi sarà inviata, una mail, con, il link, per poter, accedere, alla diretta live, se volete, avete anche, la possibilità, di poter, entrare a far parte, della tele, della chat telegram, e, iscrivendovi, sempre qua, basta che, compilate il modulo, il format, e, quindi, alla fine, diretta live, e, e chat telegram, vanno, insieme, fondamentalmente, adesso vi faccio vedere, come funziona, la chat telegram, eccola qui, vedete, quindi abbiamo, vedete, tutta una serie, di informazioni, le indicazioni, da punto di vista macroeconomico, le analisi, eccole qua, vedete, l'analisi, questa e quella, l'ultima che ho fatto, sul DAX, la discesa, che poi, il prezzo iniziato, c'è stata questa discesa, da venerdì, da ieri, e, insomma, tutte le varie, la mattina, tutte le varie situazioni, altre analisi, vedete, quindi, praticamente, eccetera, eccetera, con le varie indicazioni, dei vari movimenti, le varie, diciamo, il mese, se andiamo a vedere, il mese di ottobre, eccolo qua, questo è il mio conto reale, è stato raggiunto, un 19,75, solo, nel mese di ottobre, con un drawdown, molto basso, 2,92%, quindi, track record, eccolo qua, alla fine, diciamo, che è un, con la nuova, modo, di poter leggere, il mercato, ecco qua, questo è, il, sono i risultati, per quanto riguarda, invece, il mese di ottobre, andiamo a vedere, un po', eccolo qua, diciamo, il mese di ottobre, ovviamente, ci sono solo due giornate, però, come vi ho detto prima, sto a 800 dispari punti, già stiamo a 4,51%, quindi, per un giorno e mezzo, già abbiamo, il 4,51%, drawdown, 1,39%, quindi, alla fine, vedete, e qua, ci sono tutte le operazioni, chiuse, i 4 stop loss, l'abbiamo visto prima, che sono stati raggiunti, e, niente, per chi vuole, può, può, seguirci, può, seguirmi, può, insomma, eh, può seguire, e può, insomma, aggiungersi alla nostra community, bene, passiamo, adesso, andiamo a guardare l'euro-dollaro, allora, l'euro-dollaro, eh, la settimana, diciamo che, si chiude, siamo, andiamo sul settimanale, si chiude, a un nuovo test, di 1,13, 1,13 che fondamentalmente, già è stato raggiunto, nella settimana, nella settimana centrale, del mese di agosto, e 1,13, io, vedete qua, ce l'ho segnato in viola, perché sarebbe il minimo annuale, eh, è stato ritestato, poi il prezzo, è rimbalzato su, di cui abbiamo preso, questo rimbalzo, abbiamo preso, un'ottantina di punti, qua, su questa zona, siamo andati in buy, e, abbiamo, una spinning top, sul settimanale, vedete, con un piccolo corpo, rosso, diciamo che, al momento, eh, dalle indicazioni, sembra che il prezzo, vuole continuare, questa risalita, vedete, anche perché c'è questo rimbalzo, attestato, 1,13, assedì 1,13, qua si è formato, un punto di swing, terziario, eccolo qua, ho sbagliato, pardon, eh, allora, quindi si è formato, un punto di swing, ah, ok, ho sbagliato, eccolo qua, allora un punto di swing, eccolo qui, qua ne abbiamo un altro, vedete, qua ne abbiamo un altro, e qua ne abbiamo un altro, questi sono gli ultimi movimenti interessanti, oh, da qua potrebbe partire, eh, un nuovo movimento, al rialzo, ovviamente, bisogna rompere questa fascia, vedete, che dopo l'andiamo a vedere meglio, sul giornaliero, infatti, se passiamo al giornaliero, eccolo qua, sul giornaliero, resta ancora valido, questa bullish total 3, che ancora deve raggiungere i target, quindi il primo è 61,8, e, e qua, si vede bene la situazione, ovvero, praticamente, stiamo, eccola qua, largo un po' più grafico, abbiamo, giovedì, c'è stato questo bel movimento, al rialzo, poi, venerdì, diciamo che, c'è stato una candela a doppio senso, cioè, prima abbiamo, è arrivata, a questo massimo, e poi c'è stata questa correzione, la correzione, ha comportato, un, break in, cioè, ovvero, una candela di venerdì, che, ha fatto un falso movimento, sul massimo di giovedì, e è chiuso giù, quindi, ciò sta a significare, che molto probabilmente, con, quindi, questa è una classica pin, in falsa rottura, del massimo di giovedì, potrebbe, possiamo avere, una, movimentazione, eccola qua, tra i 50, vedete, 50, 61, 8, da qua, diciamo, visto che già l'ha toccato, potrebbe già partire lunedì, se mantengono anche questi, questi sono i bianchi, sono i livelli annuali, che io vado a tracciare, in un modo particolare, questi qua gialli, invece, sono i livelli, altri tipi di livelli, che poi, di volta in volta, vado a tracciare, in base, a delle chiusure particolari, beh, che dire, dalla lettura che io faccio, delle candele, vado a evidenziare, una possibilità, che, se mantiene questa zona, quindi, questa zona, potremmo assistere, ad altre movimentazioni, rialziste, però, ovviamente, dobbiamo andare a vedere, anche la forza, diciamo che, in questo momento, abbiamo, dobbiamo vedere, se il dollaro, diventa forte, a causa, anche e soprattutto, del, degli ultimi dati macroeconomici, a questo punto, potremmo assistere, addirittura, a un, ritorno, alle vendite, cioè, un ritorno, euro, dollaro, un sell, con, la possibilità, di poter, vedere abbassata, entro, diciamo, prima della fine dell'anno, l'asticella, dell'1,13, quindi, il minimo annuale, potrebbe arrivare, anche a 1,12, 156, che sarebbe, l'altro livello annuale, beh, questa è la situazione, quindi, vedremo un po', i primi movimenti, della prossima settimana, per poter, poi, decidere, sul, da farsi, passiamo, all'altra major, dollaro yen, partendo sempre, dal settimanale, beh, settimanale, abbiamo il test, del lato inferiore, di un canale, rialzista, eccolo qua, vedete, allora, qua, abbiamo, un, 111, 625, che, ha più riprese, vedete, stiamo qua, anche sul 50%, di fibonacci, tracciato, eh, dall'ultimo massimo, all'ultimo minimo, eccolo qua, quindi, questa è la zona, 50, 68, al risentire, di questo 50%, di cui, però, diciamo, questo 50%, corrisponde anche, 11625, mio livello annuale, quindi, una doppia confluenza, di arzista, detto questo, abbiamo questa situazione, diversi rimbalzi, qua, vedete, quindi, zona molto forte, e, appunto, la settimana, è stata una settimana, che, ha visto una debolezza, dello yen, l'abbiamo visto prima, che ha spinto i prezzi, oltre, la resistenza, quindi, una chiusura, un close, di settimana, oltre la resistenza, 112, 957, quindi, qui, però, ovviamente, il prezzo, incontrerà, una forte, zona, di, supply, dove, già, in passato, vedete, ci sono state, diverse spinte, al ribasso, vedete, ogni volta, che il prezzo, quindi, in questo momento, il prezzo, anche qua, vedete, proprio, l'ultimo mese, di settembre, di ottobre, l'ultima settimana, quindi, qua, incontrerà, una zona, molto forte, ovviamente, nel caso, di un superamento, di questa zona, potremmo avere, un pullback, il prezzo, potrebbe, ritornare, sui massimi, e, potrebbe andare a prendere, quest'altra zona, di supply, vedete, quest'altra fascia, quindi, anzi, la vado anche, a disegnare, qua, è interessante, vedere, come si comporterà, il prezzo, qua dentro, ovviamente, se ci arriva, eccola qua, vedete, però, diciamo che, qua, abbiamo un fibonacci, zombie, questa zona, abbiamo, diciamo che, il movimento, è vero che, siamo all'interno, in una tendenza, più altra, ribassista, però, vedete, questo movimento, di medio termine, è un movimento, oltre al canale, però, è rappresentato, da, questo è un minimo, diciamo, minimo, con un punto di swing, primario, e poi, ci sono tanti punti, di swing, vedete, eccolo qua, punti di swing, che, praticamente, punti di swing, massimi e minimi, decrescenti, che vanno a evidenziare, una situazione, rialzista, bene, questa è la situazione, allora, qua abbiamo, massimi e minimi, cresceni, vedete, però, quasi è formato, un punto di swing, determinato, appunto, da una, pin, ribassista, quindi, siamo all'interno, di una fase, è vero che, siamo all'interno, di una movimentazione, come ho detto prima, vedete, in ottica, middle term, rialzista, con massimi e minimi, crescente, però, qua, diciamo, è molto interessante, guardare, quello che farà il prezzo, su questa zona, come dicevo prima, se lo rompe, quindi, potrebbe, continuare, la risalita, in caso avverso, in caso contrario, qua, incontrando, una difficoltà, potrebbe, movimentarsi, al ribasso, però, ovviamente, lo Iena, deve apprezzarsi, per, un bel po', di, sedute, al momento, è una situazione, un po', complessa, quindi, a questo punto, spingiamoci, anche sul giornaliero, per vedere bene, la situazione, vedete, il giornaliero, qua, ho segnato, una trend line, rialzista, dove, il prezzo, da questo punto, segue qua, segue qua, e taglia qua, qui abbiamo, un punto di swing, interessante, vedete, primario, quindi, da qua, potrebbe partire, abbiamo già, un massimo, importante, ha fatto, la prima, movimentazione, poi, qua, ha seguito, una sorta, di flag, un po', sporcata, su questa zona, però, da qua, vedete, adesso abbiamo, un breakout, a 112, 957, però, al di sotto, se mantiene, secondo me, qua, vedete, come, l'ha testato, su questa zona, quindi, se, il prezzo, nella prima seduta, nelle prime sessioni, del mese, di la prossima settimana, chiude, sotto, 112, 957, io, mi andrò, a mettere, sell, con un primo target, al test, di questa trend line, secondo target, qua sotto, e terzo target, se eventualmente, va a rompere, anche, S1, al test, del support, 109, 977, anche, perché, perché, appunto, c'è una continuazione, sembra che, c'è la presenza, di una, B, C, D, eccolo qua, vedete, possibile, quindi, abbiamo, possibile, ABCD, e, quindi, vedremo, la possibilità, che, questo, AB, eh, venga, riproposto, se andiamo, a prendere, la distanza, da qua a qua, andiamo a vedere un po', eccolo qua, vedete, e arriva proprio, su questa zona, eh, ovviamente, qua, c'è bisogno, di una rottura, di questa, trend line, possiamo avere, potrebbe, esserci, anche, un movimento, di pullback, in, questa zona, quindi, classico movimento, di pullback, qui, ok, e poi, se rompe qua, potrebbe, arrivare qua, e potrebbe, chiudere, la BCD, per poi, iniziare, una risalita, però, questo, già, stiamo nel futuro, quindi, vediamo, la parte, quello che ci dicono, le candele, in questo momento, ovviamente, però, ripeto, qua, è una zona, dove, qua, abbiamo un punto, di swing, e, quindi, un attimo, che, andiamo a calcolare, anche per quanto riguarda, fibonacci, da qui a qui, beh, vedete, siamo proprio, sul 50, 61,8, quindi, per me, questa è una zona, interessante, da seguire, 50, 61,8, eccola qua, quindi, potremmo andare, ad, identificare, come, a, possibile, abcd, eccolo qua, vedete, quindi, quindi, qua, abbiamo, possibile abcd, con, test, 50, 61,8, quindi, da qua, potrebbe, però, ovviamente, ripeto, dovremmo, vedere, un, per poter, avere, una, possibile, ingresso, mercato, in vendita, io aspetto, un breakout, al 38,2, beh, questa è la situazione, quindi, qua sotto, Sivasella, quindi, queste sono, le aree target, ora, andiamo a vedere, invece, sterlino dollaro, sterlino dollaro, sul settimanale, abbiamo, una situazione, abbiamo, siamo fuori da questa flag, vedete, questa, questo canale, real system, che flag, di questo movimento, vedete, dove, il prezzo, abbiamo, qua, un punto di swing, primario, qua, il seconda, e qua, la parte, contraria, vedete, quasi è fermata, sul 38,2, però, andiamo a vedere, quello che, ci dice, ci offre, ci dicono, allora, dopo questa pin, ribassista, di cui ha confermato, questo movimento sell, questa settimana, diciamo, come ho detto prima, è stato a vantaggio, dei compratori, vedete, quindi c'è stata una bella, movimentazione al rialzo, da questa movimentazione al rialzo, ovviamente, abbiamo, il prezzo ha fatto, una falsa rottura, siamo, adesso siamo, sono sell a mercato, ci siamo girati sell, perché ha fatto questa, dopo il buy, siamo entrati, sell, anche nelle indicazioni, siamo a 1,30, 186, quindi, praticamente, abbiamo una falsa movimento, vedete, sta seguendo, questa zona, caratterizza, tanti massimi decrescenti, se andiamo, quindi, per me, al momento, potrebbe rimbalzare, verso il basso, dopo questa, fase, rialzista, e potrebbe continuare, al ribasso, anche perché, il cable, avete visto che, è sotto pressione, ancora, dagli mancati accordi, la Brexit, quindi, questa, fase, di sell off, sul, 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 sul cable, potrebbe continuare, anche, per la prossima settimana, sul giornaliero, abbiamo, la presenza, di, bullish, art, shark, però, fondamentalmente, a prescindere, da questo pattern armonico, qua, si evidenzia, proprio, la, la possibilità, vedete, di, di, la quale, le candele, sono, ci, leggono chiare, nel senso, che abbiamo, due false, rotture, due, diciamo, il movimento long, di cui, appunto, abbiamo preso, buona parte, e profitto, si è proprio, risentito, di questo, uno 30, 186, vedete, e poi, ha stornato, e sta, ritornando, verso il basso, ho messo, un target, sul, sul, pivot point, a 1,2906, qua sopra, quindi, da qua, diciamo, potrebbe, continuare, ancora, per un bel po', la sua discesa, quindi, qua, abbiamo, anche perché, questa zona qua, questo livello qua, 1,30, 186, è stato testato qua, è stato testato qua, è stato testato qua, quindi, è molto forte, vedete, come, la risentito, quindi, da qua, poi, vedremo, al test, del pivot point, che cosa succede, però, al momento, ti sembra che, la situazione, rimane, prettamente, a meno dalle impostazioni, abbiamo, poi, una pin, questa è una pin, quindi, in direzione, ribassista, andiamo, usd franco, usd franco, usd franco, settimanale, abbiamo chiuso, l'operazione di sell, che avevamo, ma, un'operazione di, sul breve termine, su quattro ore, e, abbiamo, per, l'ennesima volta, abbiamo, praticamente, un'ulteriore falsa rottura, su un livello, su uno, un livello molto forte, nonché anche, vedete, valore psicologico, vedete qua, a partire da questa zona, movimento al ribasso, movimento al ribasso, ogni volta che, è andato a formare, tutti i vari puni di swing, vedete, movimento al ribasso, e vedi se, quindi, questa è una zona, molto forte, da, prendere in considerazione, anche la prossima settimana, ovviamente, sappiamo che, usd franco, dobbiamo andare a vedere, anche euro dollar, che cosa fa, e la sua controparte, se non sale l'altra scena, viceversa, qui, diciamo che, solo, dalla lettura, tecnografica, sembra che, mantiene, questa zona, anzi, adesso la vado anche, a disegnare, questa è un'ottima zona, di supply, vedete, da dove potrebbero partire, a ulteriori, movimentazioni ribassiste, infatti, se andiamo, sul giornaliero, qua si vede bene, la situazione, vedete come, qua, si vede, diciamo, con un, all'endere ingrandimento, più piccola, come si vede, come, vedete, come, il movimento, vedete, ogni volta, che testa, questo 1, questa fascia, vedete, qua, ha fatto una finta, e adesso qua, ovviamente, in questo momento, a risentire, di, come, appunto, è successo in passato, qui, qui, prima della discesa, risentire, di questo 0,98, 152, però, qua sotto, potrebbe, continuare, la, movimentazione, al ribasso, con i vari target, 0,98, 700, con 74, 0,97, 696, 95, 0,96, 881, ok, potrebbe raggiungere, questa fascia, questo, livello, giallo, che non è annuale, ma, vedete, è stato testato qua, qua, potrebbe anche arrivare qua, e poi, ritestarlo di nuovo, quindi, avere lo stesso, movimento, che abbiamo avuto, all'inizio, dalla, dall, l'ultimo massimo, l'ultimo punto di swing, del 13 luglio, vedete, la giornata del 13 luglio, giù, e qua, sta succedendo la stessa cosa, vedete, punto di swing primario, con la freccia, quindi, mi sta a indicare, che da qua, potrebbe partire, un movimento ribassista, beh, adesso, andiamo a, andiamo a vedere, auto sd, allora, auto sd, partiamo dal settimanale, in cui abbiamo ancora, questa, bullish total, che sta dando, già, i primi risultati, cui noi abbiamo preso profitto, in settimana, e, su minimi storici, qua, una fibonacci, zone pv, minimi storici, perché, eccola qua, vedete, quindi, stiamo, su, una, eh, livelli, molto importanti, qua, anzi, qua ha fatto, una falsa movimento, vedete, risalire, di nuovo, su, una zona, di demand, che, guardate qua, perfetto, il movimento, vedete, che, non veniva, stiamo parlando, del 2016, qua, eh, è risalita, qua ha fatto una finta, ovviamente, molto probabilmente, qua c'erano, i big del mercato, che avevamo visto, molti stop loss, di chi, si è, già, si era già posizionato, a buy, vedendo questa situazione, però, noi ci siamo messi, in seconda battuta, dopo, i, i movimenti, dopo, la trappola, eh, dopo il bull trap, che c'era qua, eh, dicevo, qua, abbiamo, come target, eh, 38,2, 68, quindi, ancora dobbiamo raggiungere, questi target, quindi, abbiamo, molto spazio a disposizione, ora, andando, ad analizzare, con attenzione, proprio l'ultima candela, quest'ultima candela, si è appoggiata, proprio su questa zona, vedete, si sta appoggiando, quindi, ovviamente, pin, movimento realzista, e questo poi, interviene, quindi, eccolo qua, quindi, meglio che, lo vediamo bene, eh, nel sul giornaliero, qua, io stavo, siccome, qua abbiamo un pattern armonico, stavo, guardando anche, una prima correzione, qua sta facendo, una prima correzione, vedete, eccolo qua, prima correzione, che, molto interessante, è, questa zona, 50, 61,8, da prendere, come punto di riferimento, per poter, rientrare, a mercato, in acquisto, metto pure la freccia, così, quando apri il grafico, mi ricordo, eh, quindi, questo è auto SD, quindi, possibile fase, di correzione, anche perché, poi, questa è una pin, vedete, eccola qua, falsa rottura, quindi, punto di swing, questo è un altro punto di swing, che quasi è fermato, quindi, per ovvi motivi, che qualcuno che mi segue, qua, sa, di che cosa sto parlando, estensione, passaggio, di testimone, mano, ai, di nuovo, ai venditori, e qua, potrebbe continuare, per poi, risalire su, quindi, questa è una, ottima situazione, per poter intervenire, per un opportuno, movimentazione, vai, dopo la correzione, bene, eh, passiamo, quindi, alla penultimo scenario, USDCAD, bene, USDCAD, abbiamo, una situazione, dove, eh, abbiamo questo, ancora, anche qua, sul settimanale, si presenta, una, Bearish, and star, eccolo qua, e, anche qua, dobbiamo, prendere atto, che, è una situazione, dove, potrebbe, continuare, il movimento, sell, stiamo, a un test, importante, vedete qua, punto di swing, minimo, fine correzione, e, vediamo un po', vedete qua, quindi, già l'ha fatta la correzione, da qua, potrebbe partire, vero movimento, ribassista, perché, perché, se andiamo, a tracciare, Fibonacci, lo vedo, diciamo, a memoria, eccolo qua, vedete abbiamo, eccolo qua, il prezzo si è formato, qua abbiamo, vado a segnare, un'altra zona, molto interessante, qua per me, potrebbe, andare, un bel sell, potrebbe, continuare, la movimentazione sell, per questa settimana, perché, stiamo, nell'area, allargo, il settimanale, vabbè, comunque, allargo un po', il grafico, siamo in un'area, molto interessante, 50, 61, 8, test, di un mio livello annuale, test, di 1,31, quindi, zona, molto, interessante, abbiamo, diversi punti, di swing, qua, vedete, che spingono, che, ciò sta a significare, che hanno trovato, un muro, qua, i close, sono posizionati, qua sotto, quindi, l'indicazione, per me, il sell, poi, abbiamo, un'accumulazione, di movimenti, con un corpo, i corpi molto stretti, quindi, una presenza, di una pressione, da parte, e una forte, movimento, possibile, forte movimentazione, nei prossimi giorni, quindi, per vedere bene, ci spostiamo al giornaliero, il giornaliero, abbiamo un canale, qua, stiamo sopra, questa è la Fibonacci, zombie, eccola qua, stiamo sul lato, superiore, di un canale, questo è il primo, punto di swing, 2, 3, questi sono tutti, quelli che sono fatti, all'interno, però, non ci interessano, 1, 2, e 3, massimi e minimi, decrescenti, quindi, la situazione, rimane ribassista, falsa rottura, di 1,31, 3,13, allargo, un po' più grafico, eccola qua, di 1,31, 313, falsa rottura, vedete qua, il prezzo si è portato, sotto 1,31, chiuso proprio, su 1,31, da qua, il movimento, potrebbe, sta già girando, e potrebbe continuare, a ribasso, qua sotto, si va sempre, primo target, secondo target, e terzo target, eccetera, eccetera, quindi, abbiamo un punto, giallo, quindi un punto di swing, primario, eccola qua, da qua potrebbe continuare, la movimentazione, quindi, dobbiamo solo aspettare, il prezzo preciso, prezzo di ingresso, per poter entrare al mercato, in vendita, prima avevamo visto, sul settimanale, 50, 61, e 8, vedete, se io vado, ad inserirlo, anche sul giornaliero, da qui, a qui, giornaliero, eccolo qua, vedete, 50, 61, e 8, sarebbe, una zona, interessante, eccola qua, da qua, quindi, si va, si va, si va a sell, ci metto anche qua, una bella freccia, in modo tale, da capire, che da questa zona, potremmo, puntare, per, un sell, quindi, da qua sotto, sotto, 1,336, pivot point, mensile, vedete, nuovo pivot point, si va a sell, bene, passiamo, a New Zealand dollar, New Zealand dollar, un ulteriore, scenario, interessante, da seguire, nei prossimi, anche nel, ulteriormente, nelle prossime settimane, in quanto, qua il prezzo, è andato a testare, una zona, che, dobbiamo ritornare, indietro del tempo, un minimo storico, del, primi, giorni, del 2016, vedete, abbiamo una, una situazione ciclica, io non lo faccio, però, diciamo, chi fa i cicli, pensa, qua, già individuato, questa situazione, l'atto è stato qua, e già c'è un movimento, ora, abbiamo raggiunto, il target, questa settimana, del primo movimento, rialzista, però, ovviamente, qua, potremmo andare, a sfruttare la situazione, per un movimento, di lungo termine, quindi, vediamo, eccolo qua, vedete, aspetta, io aspetto, una correzione, per poter entrare, al mercato, in vendita, la correzione, potrebbe essere, proprio data, da questa pin, vedete, pin, che, si è fermata, proprio qua, zona, 06669, quindi, da questa zona, potrebbe partire, un movimento, al ribasso, fino a raggiungere, questo, 50, 61, 8, e da qua, quindi, puntare, per, un cell, da qua, a qua, potremmo, ovviamente, con una size, di mezzata, potremmo andare, a prenderci, questi, 50, 60 punti, per poi, dopo, puntare, long, con, un, target, verso, un'altra volta, verso qui, un'altra volta, verso qui, eccetera, eccetera, ok, quindi, qua, vedete, come si sta formando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e via di seguito, vedete, ottimo, movimentazione, poi, faccio uno strappo alla regola, oltre alle magic, vi voglio far vedere, qualche operazione, che si è fatta, in settimana, euro, dollaro, euro, di, da manuale, eccolo qua, vedete, diciamo che, qua, rimbalzo, pullback, pin, prima discesa, e qua abbiamo preso, un altro profitto, con il segnato, però abbiamo, due target, uno qua, su questa zona, vedete, dove è segnato, anche qua, il target, eccolo qua, primo target, secondo target, quindi, diciamo che, questo qua, vedete, se allarghiamo bene, faccio, allargiamo bene, questa era proprio da manuale, insomma, pullback, pin, qua, giù, molto interessante, vi faccio vedere, west crude, dove siamo ancora a mercato, eccolo qua, no, pardon, scusate, mi sbagliato, west crude, eccolo qua, eccolo qua, us crude, abbiamo raggiunto, il primo target, abbiamo rotto, il prezzo, ha breccato, confermato, il breakout, 64, e qua, ho messo altri due target, e qua, anche qua, vedete, il mercato parla da solo, devo restringere il grafico, per farvi vedere bene, uno, due, tre, quattro, cinque, intersezione, movimento particolare, 66,30, quindi, eccolo qua, giù, qua, già siamo entrati, abbiamo fatto diversi profitti, nel mese di ottobre, sul west crude, vedete, e giù, bene, per, quindi, per questa settimana è tutto, vi ripeto, per chi vuole, può, chiedere, di poter entrare a far parte, del nostro community, del nostro contenitore, avete visto, all'interno del, video analisi, in precedenza, come entrare a mercato, come entrare, e, fare richiesta, della diretta live, della nostra chat telegram, dove appunto, ci saranno tutte queste cose, insomma, al mattino, ovviamente, con dei grafici, quindi molto, anche per chi lavora, sarà molto più intuitivo, con, le indicazioni, dei vari ingressi, e, niente, vi auguro un buon fine settimana a tutti, e, niente, ci aggiorniamo, quindi, eh, nella prima, diretta live, quindi, vi do appuntamento, alla prima diretta live, della, settimana piena, la prima settimana piena, del mese di novembre, lunedì mattina, alle ore 8 e 30, bene, buona giornata, a tutti, e buon fine settimana a tutti, e, Grazie a tutti